Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Apriamo con la FIPLI per lavori in direzione Firenze, un chilometro di coda tra Montelupo e Ginastra Fiorentina, e rallentamenti tra Montopoli-Valdarno ed Empoli-Ovest, in direzione Livorno per lavori, un chilometro di coda tra La Strassigna e Montelupo. Segnaliamo che il cantiere sulla FIPLI chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi percorsi alternativi su SP12 e sull'autostrada 11. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Prima di salutarci segnaliamo sulla Siena Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e in Truneta, in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!